In descrizione trovate il mio shop ebay dove poter acquistare license singole a prezzi bassissimi e con i codici esco... Ah no, ok, non funziona così in questo caso. Link in descrizione. Ragazzi, siamo in live per aprire volume 1 e volume 3 di Level License, i secondi box, sono... I secondi box che copro. Speriamo di non aver buttato dei soldi. Speriamo davvero di non aver buttato dei soldi. Quindi inizierei ovviamente dall'1, quindi mettiamo da parte il 3. Sì, spero solo di trovare le license che l'altra volta non ho trovato, logicamente, qualche super rara magari, non doppia. Sarebbe carino, sarebbe davvero carino. Allora, prendiamo tutti i pacchetti, facciamo così questa volta, e il secondo. E... Il secondo. Ok? Guardate qua che bel malloppone di... Iniziamo con i pacchetti. Iniziamo... Avrò tantissime doppie. Avrò davvero tantissime doppie. Qua c'è Seiya. C'è subito Seiya. Andiamo velocissimi, eh. Andiamo velocissimi perché abbiamo ben due box da aprire. Takashi... Iwato. Mi sa di averlo già trovato la scorsa volta. E ovviamente tutte queste... Tutte queste license possono essere in vendita se vi interessano. Quindi mi iscrivete su Instagram oppure su Telegram se vi serve qualche license. E io ve la posso spedire tranquillamente. Tranquillamente. Oli. Questa, eh. Lui. Lui è fortissimo lui, ovviamente, no? Voglio... Voglio il mio... Asuto. Dov'è? Mansaku. Mansaku non mi ricordo se l'avevo trovato. Direi vero non mi ricordo nulla. Nulla mi ricordo. Nonostante sia stato quanto due settimane fa. Tarner. Che dovrei avere già. Io spero davvero di trovarlo. Asuto questo box. Di Sandra. La C'è Iro. Spero davvero, davvero, davvero di trovarlo. Perché di comprarne un altro non è che avrei tanta voglia. C'è ancora il tizio del Moai. E ho già aperto metà box, probabilmente. Andiamo piano, andiamo piano. Chokinun! Chokinun! Mi mancava. Super raro. Chokinun. Eccolo qui. Chokinun. Mystery. Non è la miglior super rara da poter trovare, ma... Dal momento che mi mancava, sono felice. Ce la metto pure da parte. Grazie. Grazie. Finalmente ho trovato anche Sonny. Finalmente ho trovato anche Sonny. Inakuni, Raymond ed è Anta. Che dovrei avere già. Ancora Inakuni, Raymond ed è... Micinari. Micinari che... Dovrei avere già anche lui. Mi manca Sandra. Vorrei trovare Sandra. Per favore. C'è Aurelia. Dopodiché abbiamo anche... Masakatsu. E abbiamo gli ultimi due pacchetti. E poi... Quelli di messi da parte. Fuyuki. Allora, io ve lo faccio vedere meglio. Uno degli attaccanti della... Seishu. Anche se qui è... È centrocampista. E infine... Masamichi. Che mi serviva? Mi serviva Masamichi. Ottimo. Ora, abbiamo gli ultimi due pacchetti. Quelli messi da parte. E vorrei trovare Sandra. Inakuni, Raymond. Ve la faccio vedere prima a voi. Non guardo io. Non guardo, non guardo, non guardo, non guardo, non guardo, non guardo. Non guardo. Voglio vedere voi dalla chat. Voglio vedere voi dalla chat. Cosa mi dite? Per favore. Per favore, ditemi... Datemi buona... Buona... No. No. Ultimo pacchetto. Ancora Inakuni Raymond. Lo rifacciamo. Ragazzi. Ditemi che è lei. Ditemi che è la dea. Ditemi che è Sandra. Adriano. Mi hai tradito, Adriano. No, non ho trovato... Non ho trovato Sandra, per davvero. Cioè, su un box è solamente tre license che mi servivano. Solamente tre license. E vabbè. E vabbè. E vabbè. E tempo di aprire anche l'altro box a questo punto. E spero di trovare... E spero di trovare quelli che mi mancano. Che qua sono un pochettino di più. Eh? Per esempio Bellatrix mi servirebbe. Mi servirebbe Bryce. Quindi... Ehm... Gazelle. Spero di trovarlo. Spero di trovarli. Quindi, come prima, prendiamo il box. Olè. Secondo pacchetto lo mettiamo da parte. Secondo pacchetto lo mettiamo da parte. La prima fila. E andiamo. Speriamo davvero di trovare Alien. Iroto. Iroto, 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 Iroto. Ce l'ho già. Purtroppo. Ancora Alien. E Dave. È Dave. È Dave. È Dave. Aiuto. Questo è ancora Alien. Yes! Bellatrix. Bellatrix. Isabelle. Mi mancava. La metto da parte. Dopodiché. Vedo Ina Kuni Raymond. E dell'Ina Kuni Raymond li ho tutti in questo box. Lei è Anna. Tonegawa. Anche della Tonegawa li ho tutti. Ponko. Mi mancava giusto, giusto. Qualcuno della... 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 E le carte, ovviamente... Tecnica. Le due carte tecnica di Ryohei. Oh! Mi sa che mi mancava lui. Mi mancava. I Cia. Bene. Mi mancava quindi sono felissime. Mi mancava anche un altro della... Otei. Quello con i capelli bianchi. Il... Il centro cam... Ah no. Il difensore. Il difensore. Non dico niente. Non dico niente. Di fronte a questa license non si può dire nulla. Non si può dire nulla. Non si può dire nulla. Sono felice. Kakaru! Kakaru della Tonegawa. Colpo alto del drago. Alto colpo del drago. Sonni! Sonni, sonni, sonni. Che qua era passato a giocare come centrocampista. E... Kosuke Okano. Che dovrei averlo. Dovrei averlo già. Peccato. Peccato. Allora. Qua c'è? Sì! Bryce! 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 Diciamo che sta andando palesemente meglio il terzo box. Sta palesemente andando meglio il terzo box che il primo. E sono felice. Ancora l'Autei. E abbiamo trovato anche Yoshizawa. Yoshizai. No! È Yoshia. Non Yoshizawa. Yoshia. Perfetto. Mancano gli ultimi cinque pacchetti. E non posso trovare nient'altro che mi serve, credo. Che io ho tutti. Che ho tutti gli altri giocatori. Questo è Takemi. La terza copia di Takemi che ho. Dunque, ragazzi, vi ripeto. Se vi interessa qualche license in particolare, contattatemi. Tatsuya. Anche Hunter. Ultimo pacchetto. Di quelli messi da parte. Ed è Elliot. Ve lo dico già. E Elliot. Guardate qua quanta... Tante cartacce. Ultimi due pacchetti. Pacchetto 1 o pacchetto 2? Pacchetto 1 e questo qua. Pacchetto 2 e quello dietro. Il 2. Vai. Io mi fido di voi. Ultimo pacchetto. Ed è... Jomuyo. Jomuyo. Che dire allora? Le doppie... Ne ho trovate tante. Perché ovviamente me ne mancavano poche di license. Per farvi capire... Doppie... Carte utili. Però vabbè. Le ho trovate quelle che mi servivano. Per il resto non mi posso lamentare. Anzi. Abbiamo trovato delle belle license. E quindi... E quindi... E quindi... E quindi... E' il momento di prendere l'album. Che sbrilla tutto. Comunque sia ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando. Lasciate un mi piace per supportare il canale. Condividete il video con i vostri amici. E iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Noi eravamo in live su Twitch. Quindi mi raccomando. Il link è in descrizione. Qui da Diego dal Corner. Per oggi è tutto. E giochiamo a calcio. E giochiamo a calcio.